È arrivata la sentenza di primo grado emessa ieri a Genova dal Tribunale federale a carico della fraglia della vela di riva e di un suo istruttore per il caso della bambina che, secondo la denuncia esposto presentata dai genitori, sarebbe stata più volte osteggiata e bistrattata dal tecnico in questione. Il collegio giudicante ha condannato l'allenatore alla sanzione disciplinare di 20 giorni di sospensione, più altri 10 dall'attività di tecnico come sanzione accessoria, mentre il sodalizio presieduto da Giancarlo Mirandola è stato riconosciuto colpevole per responsabilità oggettiva e di conseguenza condannato alla pena pecuniaria di 4.000 euro. Quando la vicenda balzò agli onori della cronaca, la fraglia si difese affermando che si trattava di una vicenda squallida basata su accuse inesistenti. Poche ore dopo il verdetto di primo grado, i vertici della fraglia della vela riva hanno diramato una nota a firma dei propri legali di fiducia che hanno seguito il caso, gli avvocati Silvio Malossini e Francesco Zarbo. Abbiamo suggerito alla fraglia vela riva e all'allenatore di non commentare in alcun modo la decisione del Tribunale federale, scrivono i due legali. Riteniamo di dover impugnare una decisione che non si può condividere assolutamente. Parleremo esclusivamente attraverso atti formali che siamo chiamati a proporre nella convinzione che il tecnico e la fraglia vela riva siano stati ingiustamente sanzionati. Di tenore completamente opposto le prime dichiarazioni della mamma della bambina, protagonista della vicenda, rilasciate al giornale Ladige. Registriamo con soddisfazione la decisione del Tribunale federale. Nel frattempo, annuncia la signora Romana d'origine, madani residente a Riva e socia del sodalizio vedico, ho dato mandato al nostro legale di presentare la prossima settimana una denuncia penale per atti persecutori e mobbing.